Gentili telespettatori, buona giornata. Sì, arriva l'obbligo vaccinale per chi è già vaccinato. Ve lo dico in un altro modo. La multa dei 100 euro per chi ha più di 50 anni e non vuole vaccinarsi, quella multa da 100 euro arriva anche a chi ha più di 50 anni ed è vaccinato. Dice, ma in che senso, scusa? Adesso ve lo spiego meglio. L'obbligo vaccinale per gli over 50, da chi ha compiuto 50 anni in su, non è solo per la prima dose, vale anche per chi deve fare il richiamo o la terza. Cioè, l'obbligo vaccinale non basta aver fatto il vaccino una volta, devi aver fatto la seconda dose, devi aver fatto il richiamo o la terza dose, come la volete chiamare. Nel provvedimento in vigore da oggi, la norma valida dall'8 gennaio al 15 giugno del 2022. Qualcuno di voi dice, ma lo stato di emergenza non è fino al 31 di marzo. Il decreto va dall'8 gennaio al 15 di giugno. Non ci vuole lo stato di emergenza per fare un decreto legge. Rispondo anche al dubbio che ha qualcun altro. Dice, ma il decreto legge non ci vogliono 60 giorni per approvarlo dal Parlamento. Allora, facciamo chiarezza. Un decreto legge normale è un modo per fare le leggi al contrario. Di solito quando si fa una legge, poi, prima che diventi effettiva, il Parlamento la deve approvare, va in firma da Mattarella, e poi la legge diventa operativa. Il decreto legge lo fa al contrario. Si fa il decreto, la legge diventa immediatamente operativa, immediatamente operativa, quando si pubblica in gazzetta ufficiale, e dopo c'è 60 giorni di tempo per approvarla in Parlamento. Il DPCM, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che viene fatto solo quando c'è lo stato di emergenza, non deve essere approvato dal Parlamento. Non deve andare alla Camera, non deve andare al Senato, non deve essere approvato dai Ministri, ma lo può fare solo ed esclusivamente il Presidente del Consiglio. Va solo in firma da Mattarella che ne verifica la Costituzionalità. Spero con questo di aver chiarito ancora chi aveva dubbi su questo. Allora, torniamo alla notizia. L'obbligo vaccinale per gli over 50 durerà dall'8 di gennaio, da ieri, fino al 15 di giugno del 2022. E il 16 di giugno non c'è più l'obbligo vaccinale dei 50 anni in su. Quindi qualcuno dice, ma l'obbligo non era per sempre, come un diamante per sempre. No, l'obbligo non è per sempre, ma ha una data di scadenza, il 15 di giugno del 2022. E riguarderà, come vi dicevo all'inizio, il richiamo e la dose booster. La chiamano così, cosa vi devo dire? Bisogna parlare in altre lingue, se no, ricordatevi, se non parli in inglese non sei nessuno. Così il decreto pubblicato in gazzetta ufficiale in vigore da oggi prevede il rischio di sanzione dal 1 di febbraio del 2022 e l'obbligo sui luoghi di lavoro dal 15 di febbraio 2022 per chi ha compiuto 50 anni e per tutti quelli che hanno più di 50 anni compiuti. Ma la multa dei 100 euro non è solo per chi non ha mai fatto neanche una dose di vaccino. La multa è per chi non ha fatto tutto il ciclo, il richiamo, la seconda, la terza dose. Ecco, secondo il testo del decreto, dalla data di entrata in vigore alla presente disposizione fino al 15 di giugno del 2022, dice proprio il decreto, alla fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 si applica ai cittadini italiani e di altri stati membri dell'Unione Europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. A decorrere dal 15 di febbraio del 2022, i soggetti ai quali si applica l'obbligo vaccinale per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificate verdi Covid-19 di vaccinazione o di guarigione. Quindi dalla prima dose fino al richiamo. Nel provvedimento viene specificato che obbligo vaccinale si intende anche il richiamo o booster, non soltanto la prima dose. E infatti è chiarito che sono obbligati i soggetti, dice il decreto, che dalla data del 1 febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario. Quindi alla data del 1 febbraio l'Agenzia delle Entrate verifica, non si sa bene come, verifica incrociando i dati quelli che risultano che non hanno cominciato l'iter della prima dose e allora sono soggetti multabili. Mentre chi ha cominciato l'iter si è prenotato per la prima non è soggetto a multe. La mia domanda è come fa l'Agenzia delle Entrate poi a dire ah questo risulta che ha fatto la prima dose ah sì beh però non si è prenotato per la seconda sono già passati sei mesi non si è prenotato per la seconda allora vai con la multa. Poi il decreto dice sono obbligati i soggetti che a decorrere dal 1 febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della Salute sono obbligati soggetti che a decorrere poi dal 1 febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi. Dal 1 febbraio il Green Pass rafforzato ha validità sei mesi. Quindi e poi il decreto parla di si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pecunia significa è come dire monetaria è un sinonimo di monetaria pecuniaria di euro 100 in caso di un'osservanza dell'obbligo vaccinato vaccinale e poi ci sono tutte le altre varie multe se vieni trovato sul posto di lavoro che non hai fatto il vaccino c'è da 600 a 1500 euro di multa e poi ad esempio se invece vieni trovato su un mezzo pubblico senza la vaccinazione lì hai una multa che va da 400 a 1000 euro intanto per i lavoratori assenti per mancanza di vaccino per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento non vieni licenziato ma vieni sospeso fino a quando fai il vaccino o fino al 15 di giugno che scade per il momento scade questo decreto ma potrebbe essere sostituito da un altro decreto che lo proroga per altri tot mesi grazie a tutti per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata grazie a tutti di nuovo grazie a tutti